Tanti nomi per il Pescara che punta ad accelerare sul mercato dalla prossima settimana. Il tecnico Gaeta Unateri si aspetta i primi colpi in entrata già dalle prossime ore. Allo stesso tempo però i dirigenti abruzzesi dovranno valutare bene ogni singola operazione per cercare di ridurre al minimo gli errori. Bisognerà portare in riva all'Adriatico quelle pedine necessarie a costruire una squadra in grado di recitare un ruolo di primo piano nel prossimo torneo. Filo diretto con il Monza fra i brianzoli militano infatti due calciatori che per il Pescara rappresenterebbero due priorità. Si tratta dell'attaccante Ettore Gliozzi 25 anni e di Stefano Negro 26 anni difensore. Il primo rappresenta al momento però quasi un sogno proibito perché ambisce a giocare ancora in Serie B mentre il secondo reduce dal campionato vinto con il Perugia sarebbe un'alternativa più fattibile. Ci sarebbe anche un terzo monzese che alla Delfino non dispiace. Si tratta di Marco Armellino centrocampista classe 89. Filo diretto con la società bianco-rossa grazie anche ai buoni rapporti con il direttore sportivo dei brianzoli pescarese doc Filippo Antonelli. Resta calda la pista che porta Eugenio Dursi attaccante di proprietà del Napoli. Reduce da un torneo positivo nel Bari. Piace anche Manuel Fischnaller 31enne attaccante del Sud Tirol ma il nodo più grande come accaduto spesso negli ultimi anni riguarda lo sfoltimento dell'organico. Non è detto però che quasi tutti i senatori possano lasciare la maglia bianca azzurra a meno di offerte clamorose. Il portiere e capitano Vincenzo Fiorillo, il difensore Mirko Drudi e il centrocampista Massimiliano Bussellato dovrebbero restare in riva all'Adriatico. Un punto interrogativo invece l'eventuale confermo meno di Cristian Galano. Oteri vorrebbe che restasse ma il giocatore vuole la Serie B e la società aspetta eventuali offerte per valutare il tutto. Lascerà Pescara quasi certamente il terzino Edoardo Masciangelo che ha estimatori all'estero e anche in Italia. In partenza il centrocampista Luca Crecco rientrato in prestito dal Cosenza. Lasceranno Pescara anche l'attaccante Gennaro Borrelli ed il difensore Edgar Elizalde.